Sì, però anche lì è difficile, bisogna avere la società anche dietro e anche i giocatori, perché come ho detto, arriva di Francesco e si vendono 3-4 giocatori, arrivano i turbi, dubbi che ritornano, difficile, anche la società con tutti i sbagli che hanno fatto, nel senso che senza Spalletti, che comunque Spalletti è uno con carisma, che piace o non piace, a me non piace, però si faceva rispettare. Quando la squadra vince, facciamo, come ho detto, un gruppo di amici, un bel gruppo, per 6-7 anni eravamo quasi lo stesso gruppo e quindi ho fatto quasi 90 presenze e 45 partite.